Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere vedete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Il caso di oggi ci proietta in Francia ed è probabilmente il più noto avvenuto in questo paese. I protagonisti sono Ghislaine Marshall e Omar Raddad. Ricostruiamo questa storia partendo dalla figura di Omar Raddad, da cui deriva l'appellativo La Faire Omar Raddad, con cui il caso è diventato noto alla cronaca di tutto il mondo. Omar nasce in Marocco nel luglio del 1962 ed è qui che trascorre la maggior parte della sua giovinezza. Suo padre si trasferisce in Europa per cercare lavoro quando Omar è solo un bambino. L'uomo trova un impiego come giardiniere e mantiene la sua famiglia inviandole denaro in Marocco. Omar è il primo di sei figli, quindi invece di andare a scuola gli viene chiesto di aiutare in casa e svolgere lavori secondari per contribuire al mantenimento della famiglia. Quando Omar cresce decide di seguire le orme del padre. Arriva in Francia nel 1985 e si trasferisce a Moujean in Costa Azzurra per lavorare anche lui come giardiniere. Omar ama il giardinaggio e gli piace vivere in Francia, anche se non conosce una sola parola di francese. Lavora parta impresso una donna di nome Madame Pascal, ma attira l'attenzione della sua vicina, la 65enne Gisleine Marchal. Nata Gisleine de Renty nel 1926, la donna è la figlia di un ricco industriale che era attivo nella resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che era morto durante la deportazione. È divorziata dal primo marito, dal quale aveva avuto un figlio. Gisleine ora è la ricco vedova di Jean-Pierre Marchal, titolare di una famosa azienda che forniva attrezzature per automobili. E poi la cognata del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, Bernard de Bigue de Grandes. La donna divideva il suo tempo tra la casa principale in Svizzera e l'assuntuosa villa La Chamade, che aveva fatto edificare sulle alture di Moujean e dove trascorreva le sue lunghe vacanze. Gisleine apprezza il modo in cui lavora Omar, quindi gli propone di lavorare anche al suo giardino, quando chiaramente non è impegnato da Madame Pascal. Omar l'è molto grato, considerando le entrate che conseguirà con questo lavoro extra, accetta di buon grado. Come potete presumere, Gisleine è una donna molto ricca, ha una bellissima casa, un giardino rigoglioso e ha dei domestici sempre a sua disposizione. Eppure non era cresciuta in una famiglia benestante. Gisleine sa cosa significa vivere in povertà. Come detto, da giovane si era sposata e aveva messo al mondo un figlio. Ma il matrimonio non era durato a lungo, anzi, si era concluso con un divorzio. Gisleine aveva poi incontrato un uomo ricco di nome Jean-Pierre Marchal, che possedeva per l'appunto un'azienda che forniva componenti auto in tutto il mondo. I due si erano innamorati e sposati, così Gisleine era diventata ricca quasi dall'oggi al domani. Quando Jean-Pierre era morto, Gisleine aveva ereditato tutto, l'azienda e i ricavi che ne derivano, la casa e il denaro. Gisleine, vi ricordo, si sposta in Francia dalla Svizzera durante il periodo delle sue lunghe vacanze estive ed è una socialità locale. Riempie le giornate sorseggiando champagne, sdraiata a bordo piscina, frequenta l'alta società, partecipa a tutti gli eventi importanti della città, indossa abiti eleganti e costosi e viene considerata una donna molto attraente, soprattutto per la sua età. Onestamente quest'ultima frase mi aggrada ben poco perché a mio avviso le donne sono tutte belle a tutte le età, ma così viene descritta da coloro che la conoscono. La gente bisbiglia spetticolando su diversi uomini ricchi che Gisleine avrebbe frequentato nel corso degli anni, anche se nessuno l'ha mai vista con una di loro. Quanto a Omari il suo lavoro come giardiniere, lo considera un impiego temporaneo a cui dedicarsi, fino a quando non avrà risparmiato abbastanza per essere finanziariamente stabile e rientrare in Marocco. I suoi piani però cambiano quando si innamora di una giovane donna di nome Latifa. Ora vuole rimanere in Francia, infatti si sposa e spera di mettere su famiglia con lei. Purtroppo, anche se lavora sia presso Madame Pascal che presso Gisleine Marchal, Omar non ricava sufficienza per realizzare tutti i suoi progetti. Il giardinaggio, infatti, ahimè non è un mestiere molto redditizio. Per risparmiare, Omar e Latifa vanno a vivere con i genitori della donna che abitano a circa un'ora di distanza dal luogo di lavoro di Omar. Presto però quella casa diviene un po' angusta e scomoda per la coppia di sposini e Gisleine li aiuta, offrendo a Latifa un posto come governante. Sia Madame Pascal che Gisleine erano estremamente gentili con Omar e sua moglie. Nel 1991, quando Latifa rimane incinta dal primo figlio, la coppia decide di trasferirsi in una casa tutta per loro, con maggiore privacy e lontano dalle dimore delle datrici di lavoro. Omar è soddisfatto. A soli 29 anni ha una casa in cui vivere, una bellissima moglie, un bambino da accudire. Per di più, adora il suo lavoro come giardiniere. Pure, sembra che Omar abbia difficoltà a gestire il denaro. Forse ha una dipendenza dal gioco, anche se promette a sua moglie che non sperpererà mai e poi mai i soldi di cui hanno bisogno. Latifa ammette che sì, a Omar piace il gioco d'azzardo, ma dice che la sua priorità è prendersi cura della famiglia. Per giocare, infatti, utilizza soltanto il ricavato delle sue vincite precedenti. Ma ora parliamo del giorno in cui tutto cambia per Omar e Gislaine. È il 23 giugno 1991, Gislaine si sveglia, fa una doccia e decide di rimettersi a letto per leggere il giornale e fare colazione. Intorno alle 11.48 ha una conversazione telefonica con la sua amica Erika. Le due programmano di incontrarsi per pranzo il giorno successivo e la conversazione si conclude intorno alle 11.50 perché Gislaine deve prepararsi, deve incontrare altri amici per un pranzo di compleanno. Questa è l'ultima volta che qualcuno sente Gislaine, dato che non riuscirà mai a essere presente a quel pranzo. I loro amici, preoccupati della sua assenza, le telefonano più volte per assicurarsi che stia bene, ma non ottengono mai risposta. Il giorno successivo, il 24 giugno, Erika si presenta verso mezzogiorno per il pranzo concordato. Suona il campanello di casa di Gislaine ma nessuno le risponde e qui a me nasce una domanda. Ma Gislaine non aveva una governante delle cameriere e cose del genere? Mi sembra molto strano. Comunque procediamo. Le amiche di Gislaine in apprensione contattano i gendarmi per chiedere loro di eseguire un controllo. Quando la squadra arriva nota che se il cancello della proprietà che la porta d'ingresso sono aperti, ma le chiavi di casa si trovano all'interno. L'allarme inoltre non è attivato. Sul tavolo dell'ingresso è adagiato un piccolo pacco regalo che probabilmente Gislaine avrebbe portato al pranzo di compleanno che si era persa. La casa è molto silenziosa e buia. Tutte le luci sono spente. Mentre la squadra di sicurezza avanza individua nel lavandino un vassoio per la colazione contenente dei piatti sporchi. Tutte le persone della casa sono chiuse, tranne quelle della camera da letto principale. Gli occhiali di lettura e il diario di Gislaine vengono trovati sul suo letto ancora disfatto. Insomma sembra che la donna si sia svegliata e abbia fatto colazione a letto mentre scriveva sul suo diario. Poi ha riportato il vassoio della colazione in cucina dopodiché è scomparsa. Non c'è traccia di Gislaine da nessuna parte in casa o fuori dalla proprietà. Eppure all'apparenza non manca nulla e non pare vi sia stata un'irruzione. L'intera casa viene perquisita per tutto il giorno dai gentarmi. Soltanto di sera un uomo constata che c'è un'area ancora da esaminare. La cantina la cui porta è chiusa a chiave. La probabilità che Gislaine si trovi lì dentro risulta remota ma bisogna accertarsene ugualmente. La chiave della cantina viene trovata in una scatola di sigari. I gendarmi la inseriscono nella serratura ma la porta si apre con difficoltà e solo di un paio di centimetri sembra che qualcosa la blocchi dall'interno. Quando spingono con forza fino a spalancarla trovano un grosso letto pieghevole che ostruiva il passaggio oltre a un sottile tubo di metallo. E' ovvio che qualcuno li ha disposti lì per ostacolare l'attraversamento della stanza. La cantina è buia. Sul pavimento si evidenziano una pozza di sangue stesa e il corpo di Gislaine Marchal. Indossa una camicia da notte tirata fin sopra la testa dunque è nuda dalla vita in giù. Il viso è rivolto al suolo. Le braccia sono distese. Sulla porta di metallo che conduce alla cantina a circa un metro da terra è scritto col sangue un macabro messaggio. Omar Matwe che tradotto significa grosso modo Omar mi ha ucciso. Mentre i gendarmi continuano a ispezionare la casa individuano altre scritte. Ce n'è una su un'altra porta che sembra incompleta riporta soltanto Omar Matwe. Si presume corrisponda alla scritta trovata prima sulla porta di metallo. L'autrice del messaggio insanguinato forse si è arresa o è caduta mentre lo stava scrivendo, spargendo così le sue tracce ematiche. La prima domanda a cui trovare risposta è chi è questo Omar? Probabilmente si tratta di Omar, il giardiniere della proprietà, assunto da anni. Il 25 giugno, sia il giorno successivo al rinvenimento del cadavere, Omar viene arrestato mentre celebra una delle più grandi feste della religione islamica. Si lascia portare via dalla polizia senza protestare, limitandosi a manifestare perplessità. Saluta sua moglie con un bacio prima di salire sulla vettura e le dice che sarebbe tornato a breve. Alla stazione di polizia viene fotografato. Sul suo corpo non vengono trovati graffi o ferite. Poi viene interrogato. Il campitano George Sensi lo descrive come una persona calma e riguardosa. Gli vengono mostrate le foto del corpo martoriato di Ghislaine e le scritte fatte col sangue sulla porta. Le immagini sembrano scioccarlo. Si ritiene molto legato a Ghislaine e assicura agli investigatori che avrebbe riferito loro tutte le informazioni che avevano bisogno di sapere. Dice che amava Ghislaine come se fosse una seconda madre per lui e non le avrebbe mai e poi mai fatto del male. La polizia però non è così sicura ma Omar fornisce rapidamente un alibi per testimoniare la sua innocenza. Il giorno dell'omicidio Omar stava lavorando da Madame Pascal. Di solito non lavorava la domenica ma aveva bisogno di più soldi e preferiva prendersi le ferie il lunedì. Aveva lasciato la casa di Madame Pascal verso mezzogiorno per pranzare. Si era fermato in una panetteria per comprare del pane intorno alle 12.05 e poi aveva guidato per circa 5 chilometri e mezzo fino a casa sua per mangiare. Omar racconta che il vicino l'ha visto rientrare anche se non hanno avuto una conversazione. Gli inquirenti verificheranno quanto sostiene. Intanto Omar continua a ricostruire la giornata spiegando che era entrato in casa a mangiare la sua baguette con del formaggio guardando la tv. Poi era ripartito per tornare al lavoro intorno alle 12.40 e aveva raggiunto casa di Madame Pascal intorno alle 13.10. Ciò viene confermato dalla figlia e dal genero di Madame Pascal. La donna poi aggiunge era un ottimo lavoratore e un ragazzo gentile. Anche la donna conferma che Omar era tornato al lavoro dopo la pausa pranzo e non c'era nulla che indicava che avesse ucciso Gislaine. I suoi vestiti non presentavano macchie di sangue. Inoltre, sottolinea Madame Pascal, non si era comportato in modo diverso dal solito. Omar riferisce poi di aver chiamato sua moglie che si trovava fuori città con i bambini da un telefono pubblico. Fornisce alle forze dell'ordine le indicazioni per raggiungere la cabina telefonica e verificare la sua versione. Tutto ciò viene registrato e verbalizzato dall'investigatore ma bisogna considerare l'enorme barriera linguistica posta tra lui e il sospettato. Omar parla il francese a malapena, la sua lingua madre è l'arabo. Tradurre ciò che aveva detto durante quella telefonata alla cabina è così complicato che la polizia chiede supporto a un detenuto che parlava sia arabo che francese. Omar passa la notte in prigione. Il giorno successivo la polizia lo accompagna a casa affinché recuperi i vestiti che dice di avere indossato il giorno in cui Gislaine è stata uccisa. Capi non sono ancora stati lavati dunque la polizia vuole esaminarli. sugli abiti e sulle scarpe che indossava Omar non viene rilevata alcuna traccia di sangue. La polizia quindi lo rilascia dalla custodia riportandolo di nuovo a casa. Sulla via del ritorno gli agenti decidono di fermarsi alla panetteria dove Omar si sarebbe fermato per comprare il pane il giorno dell'omicidio. Per sua sfortuna né il fornaio né i dipendenti della panetteria si ricordano di lui e questo ahimè crea un buco nel suo alibi. Inoltre nemmeno il vicino ricorda di aver visto Omar tornare a casa per pranzo quindi l'alibi vacilla ancora di più e la polizia si convince che sia stato lui a uccidere Gislaine. Omar se ricordate aveva fornito alla polizia le indicazioni per individuare la cabina telefonica da cui aveva chiamato sua moglie e aveva detto di aver chiamato intorno alle 12.45. Secondo i dati forniti da France Telecom quel giorno alle 12.51 era stata effettuata una chiamata al numero dell'abitazione dei suoceri di Omar. Ciò sembra combaciare con la sua versione tuttavia la polizia è sicura che è lui l'assassino di Gislaine e non si sofferma su questo dettaglio. Omar viene arrestato posto in custodia e accusato dell'omicidio di Gislaine Marshall il 27 giugno. La polizia crede che l'abbia uccisa per soldi. Omar ne aveva bisogno per assecondare il suo vizio del gioco d'azzardo. Ne aveva chiesti di più a Gislaine ma quando lei si era rifiutata di darglieli lui era andato su tutte le furie e l'aveva ammazzata. Il portafoglio di Gislaine era stato trovato in casa ma era vuoto e ciò è strano perché la donna aveva ritirato 5.000 franchi solo due giorni prima del suo omicidio. Il denaro cercato in casa dalla polizia non era stato trovato da nessuna parte. Gislaine il giorno della sua morte avrebbe dovuto partecipare a un pranzo di compleanno con degli amici. Al mattino era andata in cantina per installare il sistema di pulizia della piscina. Omar era in pausa e ne si era avvicinato per chiedere un anticipo sulla busta paga. Quando lei gli aveva detto di no lui aveva usato un tagliassiepi per colpirla. Gislaine quindi era corsa in cantina aveva chiuso a chiave. Poi aveva sposato il letto lì presente mettendola davanti alla porta e gli aveva appoggiato contro anche un tubo di metallo. Si era inginocchiata sul pavimento e aveva usato il proprio sangue per scarabocchiare il nome del suo aggressore sulla porta. Omar aveva raggiunto il locale caldaia lì aveva rifatto la scritta insanguinata infine era tornata in cantina dove si era sdraiata ed era morta. Tutto questo è ciò che la polizia crede sia successo ma le prove scarseggiano. Il giorno seguente sono pronti i risultati dell'autopsia effettuata sul cadavere di Gislaine. Questi da un lato forniscono risposte ma dall'altro generano anche nuove domande. Chiunque avesse ucciso Gislaine l'aveva colpita in modo molto rabbioso e violento. La donna aveva subito un trauma da corpo contundente inoltre riportava 5 grandi ferite sulla testa, una ferita a forma di V sulla gola, 10 ferite sia al torace che all'addome causate da un'arma dalla lama lunga tra i 15 e i 20 centimetri e larga al massimo 2 centimetri. Tre di queste coltellate le avevano anche perforato il fegato. Due ferite sulla coscia sinistra di cui una generava una scea di sangue che ricadeva sul pavimento. Quindi la donna era stata colpita da sdraiata. Molte ferite, lividi e fratture alle mani, segno che Gislaine aveva reagito all'aggressione. Inoltre c'erano altri, lividi e graffi su tutto il resto del corpo. E sulla camicia da notte della vittima c'erano tracce di cemento compatibili col pavimento della cantina e polvere, il che lasciava presumere che fosse stata trascinata fino a lì. Il medico legale ipotizza che Gislaine fosse rimasta ferita sul pavimento per circa 15-30 minuti prima di morire. Si stima che l'ora della sua morte fosse intorno a mezzogiorno, il che significa che sarebbe stata uccisa poco dopo aver concluso la telefonata con la sua amica. Gislaine viene cremata pochi giorni dopo l'autopsia e ciò impedisce alla difesa di fare ulteriori test, cosa a mio avviso gravissima. Gli investigatori non erano davvero sicuri dell'arma usata per uccidere Gislaine. Supponevano che il colpevole avesse usato una trave di legno per colpirla alla testa, ma avevano dubbi su cosa avesse usato per pugnalarla. Nessun'arma viene trovata sulla scena del crimine, ma si pensa al ricorso a cesoia da giardinaggio. È indubbio che i pubblici ministeri hanno tra le mani un caso davvero complesso. Non c'è alcuna prova fisica che leghi Omar alla scena del crimine. Non sono state rinvenute impronte digitali né tracce della presenza di Omar sulla vittima o in cantina. L'unica certezza dell'accusa sono le incongruenze nel suo alibi e il messaggio scritto con il sangue che lo identifica come l'assassino. Ma Omar nega con tutte le sue forze di aver ucciso Gislaine. Sostiene che qualcuno sta cercando di incastrarlo. La scritta sul muro non è una prova schiacciante, ci sono alcune stranezze nel messaggio. La principale è la grammatica. La frase Omar ma tuè non è ben coniugata. Omar ma tuè, partecipio passato, significherebbe Omar mi ha ucciso, non tuè, verbo all'infinito, ossia t u e r. Ad alcuni stranisce l'errore di ortografia perché Gislaine era nota per essere un'avida lettrice e scrittrice. Poteva mai sbagliare a scrivere questa frase? A questo punto vengono esaminati diversi documenti, incluso il diario, per valutare la sua capacità di scrittura e in alcuni punti in effetti qualche errore c'era. Ma l'ortografia non è l'unico problema del messaggio scritto con il sangue. Un perito, testimone dell'accusa, spiega che era stato fatto un confronto della grafia e che molto probabilmente quella calligrafia apparteneva a Gislaine. Ma la difesa, supportata dal proprio perito, sostiene il contrario. La cosa che mi lascia perplessa è perché Gislaine, che era ancora viva, avrebbe scritto il messaggio usando il tempo al passato come se fosse già morta? Forse sapeva che le sue ferite erano così gravi da stroncarle la vita? E poi perché aveva scritto il messaggio due volte? Forse il primo era illegibile? Ma, ammesso che Gislaine l'abbia scritto, non c'è alcun indizio che lascia desumere che la donna si sia trascinata fino alla seconda porta per lasciare un altro messaggio. Dal modo in cui era posizionato il suo corpo con la veste ripiegata sopra la testa e il sangue che gocciolava sul pavimento, sembrava che fosse stata trascinata da qualcuno. Quindi Gislaine aveva davvero scritto quel messaggio o l'autore era il suo vero assassino che stava cercando di incastrare Omar? Di una cosa siamo certi. Omar non può averlo scritto perché non conosceva la lingua francese. Passiamo adesso alle incongruenze della scena del crimine. Gislaine va in cantina che è quasi sempre chiusa a chiave. La suddetta chiave viene trovata in una scatola di sigari fuori dalla cantina. C'erano la struttura di un letto e un'asta di metallo spinti contro la porta, il che avrebbe avuto senso se la vittima fosse corsa al piano di sotto lontano dal suo aggressore, quindi se avesse adoperato quegli oggetti per impedirgli di entrare. Come detto, quando la porta viene aperta dai gendarmi c'è un tubo di metallo che la blocca alla base. Tuttavia quest'asta molto sottile passa facilmente sotto la porta se viene riposta sul pavimento perché c'è uno spazio tra il fondo della porta e il suolo. Come poteva dunque bloccare la porta? Nel febbraio 1992, nel corso di un sopralluogo di inquirenti magistrati e avvocati, l'inchiesta ha concluso che Gislein Marchal aveva appoggiato il tubo metallico su una trave di legno che aveva l'effetto di sollevarlo dal lato opposto della porta. La pendenza così ottenuta rendeva possibile opporsi alla sua apertura. Gli avvocati difensori protestano. Affermano di aver dimostrato che era possibile appoggiare il letto pieghevole contro la porta aperta in modo tale che uscendo e chiudendola lentamente il letto sarebbe caduto e avrebbe bloccato l'entrata. La sbarra di metallo potrebbe essere caduta quando i gendarmi hanno spinto indietro il letto tentando di aprire la porta. La giornalista Yves Livet osserva che lo spazio sotto la porta si restringe vicino al cardine perché il pavimento non è livellato. Essendo l'estremità della barra metallica posta in prossimità di tale cerniera il suo spessore sarebbe stato sufficiente a bloccare la porta come indicato dalla traccia di slittamento a terra. Il detective Roger Marc Moreau riferisce di aver trovato un modo per bloccare facilmente la porta dall'esterno nelle stesse condizioni. Il capitano Sensi ritiene che è impossibile a causa di una sopraelevazione sotto la porta e tra l'altro crede che il signor Moreau non sia mai andato a visionare il posto. Se Gislaine era l'unica persona presente in cantina e si era chiusa lì dentro come aveva fatto la chiave a tornare nella scatola di sigari? Qualcuno aveva alterato la scena del crimine in cantina e poi aveva riposto la chiave nella scatola? La difesa sostiene che il vero autore dei fatti avrebbe effettuato questa macabra messa in scena e avrebbe lasciato il luogo dopo aver disposto prove fittizie per incastrare il giardiniere. Secondo l'accusa tale tesi non regge per varie ragioni. È poco credibile che i veri assassini abbiano scelto una domenica per mettere in atto questo scenario perché Omar non aveva mai lavorato quel giorno. La sua presenza sulla scena era eccezionale e nota solo a Madame Marshall e alla sua vicina. Sarebbe stato molto rischioso per loro scegliere una domenica per perpetrare il delitto poiché si sarebbe dato per scontato che per una straordinaria fortuna Omar stesse lavorando quel giorno. L'instaurarsi del meccanismo dall'esterno avrebbe fatto presumere che Madame Marshall fosse già morta. Il vero assassino avrebbe quindi potuto posizionare il letto pieghevole, la trave di legno e la sbarrame di metallo in questo ambiente, ossia la cantina. Estremamente sporco di sangue, quindi uscire e manovrare il meccanismo dall'esterno per incastrarlo. Sembra impossibile che qualcuno possa averlo fatto senza lasciare neanche una traccia di sangue sul cuscinetto esterno o delle tracce di passi all'interno. Ma se Gislein Marshall aveva scritto il messaggio, poi si era sdraiata ed era morta perché la veste le ricopriva il capo? Non sarebbe stata trovata così se fosse morta in cantina da sola. Per la difesa, la violenza e la moltiplicità dei colpi mostrano un'implacabilità quasi appassionata, l'espressione di un odio profondo che mai si adattava alla personalità di Omar, visti i suoi buoni rapporti con l'adattrice di lavoro. La difesa invoca anche l'assenza di tracce o graffi sulle mani di Omar o di sangue sui vestiti. Poiché il capitano Sensi ammette che il delitto non è stato premeditato, dunque Omar non aveva con sé né guanti né vestiti di ricambio, come potevano i suoi vestiti non contenere macchie di sangue? A queste rilevanti domande l'accusa nemmeno risponde. Agli occhi dei PM Omar è colpevole anche se la sua implicazione è discutibile. Questa storia esplode a livello mediatico, tutti ne parlano. Il messaggio insanguinato scritto sul muro, il violento omicidio di una ricca d'orna mondana e tutti i misteri che circondano ciò che le è realmente successo, destano un grande interesse. Molti sono convinti che Omar è l'assassino, inclusa la famiglia di Gislein, ma molti credono nella sua innocenza. Ritengono che il trattamento riservato all'uomo, un immigrato, che parlava menapina il francese, è ingiusto, che è frutto del razzismo che inquina il sistema giudiziario. La determinazione della data e dell'ora del delitto suscita una polemica altrettanto vivace, in quanto Omar aveva lavorato non lontano dal Shemad, domenica 23 giugno, ma non era presente a Mougin, lunedì 24. Venerdì 28 giugno, il giorno dell'autopsia, il capitano Sensi redige il verbale ufficiale ai fini della sepoltura. Individua il probabile momento dell'assassinio nella giornata di domenica 23 giugno, intorno alle ore 12. Nei verbali successivi all'intervista telefonica con l'amica di Gislein, Erika, giustifica questa stima osservando, la vittima non è vestita, non è truccata ed esce dalla doccia. Sempre molto puntuale, viene poi pressata questo giorno per andare a pranzo con i suoi amici. Aveva addirittura chiamato per chiarire l'ora del pranzo. Vista la poca distanza in macchina, avrebbe dovuto lasciare la Shemad alle 13. Ma nel rapporto del 2 novembre 1991, gli scienziati forensi sostengono che l'ora della morte è tra le 11, le 13 e 30 di lunedì 24 giugno. Scrivono in particolare che la completa rigidità del corpo, esaminata in cantina lunedì 24 a fine giornata, indica che la morte risale a più di 6 ore prima. Gli avvocati di Omar non scoprono fino a metà dicembre questa datazione del delitto, che offre un alibi al loro assistito, così la denunciano subito alla stampa e al giudice. L'accusa comunica poi alla stampa che si tratta di un errore semplice di battitura di uno dei segretari. Ha seguito di tale errore per togliere ogni ambiguità, il giudice ha chiesto ai medici di precisare gli elementi oggettivi che hanno permesso loro di concludere che la data del 23 giugno è quella esatta. Per giustificare la loro risposta, in un rapporto del 2 febbraio, gli esperti precisano che il corpo era a temperatura ambiente, temperatura che però non avevano registrato e che si raggiunge dopo circa 12 ore dalla morte, che rigor mortis, che si verifica dopo 13 ore dalla morte, era completo, che le lividità cadaveriche presentavano un aspetto che sopraggiunge a 30 ore dalla morte. Aggiungono che la loro stima si basa anche sulle risultanze delle indagini riguardanti il lasso di tempo trascorso tra l'ultima telefonata della vittima alle 11.45 e la prima telefonata senza risposta alla parte sua alle 13.30. Un secondo parere sarà effettuato su richiesta della difesa dal dottor La Poivre, che colloca il decesso al 24 giugno. Gli occhi della vittima erano ancora nitidi nelle foto, mentre avrebbero dovuto essere velati dopo 5 o 6 ore dalla morte. Ritiene inoltre che se le lividità evidenziavano davvero che la morte fosse avvenuta 30 ore prima, è inspiegabile che gli esperti l'abbiano ignorato nel loro primo rapporto. Tuttavia c'è una possibile spiegazione per questo presunto errore. Gli esperti, avendo fatto affidamento sui risultati dell'indagine, potrebbero aver fatto confusione sulla data in cui l'indagine aveva inquadrato il delitto. Pensando di ricordare che la morte della vittima era avvenuta intorno alle 12 dello stesso giorno in cui era stato esaminato il corpo, avrebbero scritto il loro rapporto quattro mesi dopo, conservando solo le osservazioni a sostegno di questa ipotesi. Per il maggiore sensì non ci inganno in questo deplorevole errore. La difesa, al contrario, fa affidamento su questo elemento del verbale per suggerire pressioni da parte del giudice. Se il diritto fosse stato compiuto il 24 giugno, Omar avrebbe avuto un alibi siccome aveva preso il treno di prima mattina per andare a Tolone a celebrare una festa islamica con la sua famiglia. Questo errore contribuirà ad alimentare la tesi di un complotto. Omar intanto continua ad affermare la sua innocenza ma viene trattenuto in carcere senza possibilità di pagare su una cauzione. L'uomo brucia la coperta presente nella sua cella come forma di protesta e viene trasportato in ospedale a causa dell'inalazione del fumo e di diverse ustioni su tutto il corpo ma sopravvive. Poi il 18 novembre 1991 decide di non mangiare per 36 ore. Interrompe lo sciopero della fame soltanto perché è suo padre a chiederglielo. Voleva che qualcuno ascoltasse le sue suppliche di innocenza ma nessuno lo faceva. Però adesso le sue suppliche arrivano ai media e un giornalista decide di scavare un po' più a fondo negli affari della polizia. Innanzitutto scopre che la polizia si è recata nella panetteria sbagliata per confermare o smentire l'alibi di Omar. Io sono senza parole ma procediamo. Vi ricordo che Omar aveva detto che si era fermato in una panetteria per comprare una baguette a pranzo ma il fornaio non si ricordava della sua presenza. Secondo il giornalista il fornaio della panetteria giusta quella in cui Omar era entrato quel giorno sostiene l'alibi dell'uomo e riferisce che Omar era un suo cliente abituale ma ancora una volta queste informazioni non sembrano avere importanza e le accuse rimangono. L'accusa sostiene che Omar aveva ucciso Gislein per sottrarle dei soldi ma la difesa ribatte che Omar non aveva alcuna motivazione per ucciderla. Omar sottolinea sempre che Gislein lo trattava con gentilezza e che se le avesse chiesto dei soldi lei glieli avrebbe dati. La stessa cosa valeva per l'altra sua datrice di lavoro Madame Pascal quindi non c'era un motivo che potesse spingere Omar a uccidere Gislein per soldi. Nell'aprile del 1992 dopo che gli era stato negato il rilascio per la quinta volta Omar fa uno sciopero della fame questa volta dalla durata di 25 giorni mentre è in custodia viene trasferito in un altro carcere di Nizza ben più duro di quello in cui era rinchiuso fino a ora. Adesso Omar si sente davvero completamente senza speranza e ahimè cerca di uccidersi ingoiando la lama di un rasoio. sopravvive perché le guardie che lo trovano nella sua cella riescono a salvarlo. Quanto la libertà quella ancora non la recupera anzi. Il 2 febbraio Omar viene condannato a 18 anni di carcere per l'omicidio di Gislein Marshall. Molte persone credevano che non ci fossero prove sufficienti per condannarlo e che fosse stato ritenuto colpevole soltanto a causa di sentimenti di razzismo e contrario all'immigrazione in Francia. Anche durante il processo il giudice commenta più volte che non riesce a capire una sola parola di Omar quindi farlo testimoniare per lui non ha alcun senso. A due anni della sua condanna Omar viene parzialmente graziato dopo le crescenti pressioni esercitate da parte del governo marocchino. Questo è un perdono parziale e non un esonero il che significa che Omar può essere processato di nuovo per l'omicidio in qualsiasi momento. La sua pena viene ridotta a 4 anni e 8 mesi. Due anni dopo Omar viene rilasciato per buona condotta. Gli viene anche permesso di rimanere in Francia ma non può più lavorare come giardiniere. Quindi Omar tecnicamente è un uomo libero ma continua a essere considerato colpevole da gran parte del pubblico francese e questo è importante. Emergono tuttavia delle teorie su chi potrebbe essere l'assassino. La cameriera di Gislaine avrebbe denunciato la scomparsa di un tagliacarte, possibile arma utilizzata per pugnalare Gislaine. Vi ricordo che non possiamo esserne sicuri perché non è mai stata trovata quell'arma. La cameriera però fornisce un altro collegamento alquanto interessante perché il suo fidanzato era in carcere per un crimine non correlato, un omicidio di cui ha ammesso la colpevolezza. Secondo alcune voci la cameriera era stata licenziata dopo che Gislaine aveva scoperto che mancava una notevole quantità di denaro. A quel punto il ragazzo della cameriera poteva aver deciso di rompere in casa dopo essere uscito di prigione per rubare dei soldi. Queste sono ovviamente solo voci, si parla tutto in via ipotetica. La fidanzata magari gli aveva detto che Gislaine avrebbe dovuto essere a una festa di compleanno tuttavia la donna era in casa. Quindi forse il ragazzo era andato nel panico e l'aveva uccisa cercando poi di incastrare Omar. Possibile? No? Inoltre c'era anche un altro Omar nella vita di Gislaine. Secondo quanto riferito si parla sempre di voci sono stati visti insieme davanti a un casino poco prima dell'omicidio. Tuttavia anche se l'altro Omar viene interrogato nessuna accusa viene avanzata quindi sembra di essere di fronte a un vicolo cieco. C'è anche un testimone che riferisce di aver visto un furgone parcheggiato fuori la villa e che sembrava essere abbandonato. Quando aveva sbirciato contro il finestrino gli era sembrato di scorgere delle tracce di sangue anche su delle asse di legno all'interno. Però pochi giorni dopo il furgone era sparito. Il proprietario del furgone viene comunque identificato e si scopre così che si trattava di un uomo che lavorava sia come falegname che come pittore. Quella avvistata nel suo furgone era vernice rossa dunque non sangue. Dopo il rilascio di Omar quantomeno le indagini continuano. Nel gennaio del 2021 vengono analizzate le travi di legno utilizzate per colpire Giseline così come le porte che riportavano la scritta insanguinata. E indovinate un po'? Vengono individuati due profili di DNA maschile che però non corrispondono a nessuno presente nel sistema, tanto meno a Omar. Nel 2016 vengono effettuati nuovi test ed emergono quattro profili di DNA maschili. Ovviamente ancora una volta non c'è neanche l'ombra del DNA di Omar né sulla vittima né in cantina. Sul quotidiano Le Monde del 21 giugno 2021 Sylvie Nakovic, l'avvocato di Omar, scrive che presenterà una nuova richiesta di resame del processo sulla base delle analisi del DNA effettuate nel 2019. Viene individuata la presenza di una trentina di tracce dello stesso DNA maschile non appartenente a Omar, sottolineo di nuovo, rinvenuto nel sangue analizzato, il che secondo l'avvocato dovrebbe escludere l'ipotesi di un successivo inquinamento della prova. Verso la fine del 2021 il fascicolo viene effettivamente riaperto. Nel giugno del 2021 Omar richiede un nuovo processo. Vuole fortemente che il suo nome venga dimenticato una volta per tutte e ci credo poverino. Il 13 ottobre gli viene concesso un nuovo processo. Il suo avvocato vuole che vengano condotti ulteriori test sul DNA sconosciuto rinvenuto sulla scena del crimine per chiarire una volta per tutte se ci sono corrispondenze familiari nel database. L'omicidio di Gislaine è avvenuto negli anni 90 ma da allora la tecnologia forense e i test del DNA hanno fatto notevoli progressi. Omar aveva un buon rapporto con Gislaine e lei di sicuro non l'avrebbe voluto dietro le sbarre se innocente. Anche la sua famiglia merita delle risposte. A mio parere Omar non avrebbe mai dovuto essere accusato di questo omicidio e la cosa tra l'altro mi fa anche arrabbiare perché non c'erano prove sufficienti per condannarlo e continuano a esserci troppe domande senza risposta per quanto mi riguarda. È davvero così facile incastrare qualcuno per un omicidio che non ha commesso semplicemente scrivendo il suo nome su una porta col sangue della vittima? Per quanto riguarda la conclusione del processo tutte le fonti che ho trovato risalgono al 2021. Si parla di una nuova richiesta di revisione del processo ma non della conclusione. Chiaramente se ci saranno delle novità non mancherò di aggiornarvi con un commento fissato in alto. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Sono assolutamente curiosa di sapere le vostre opinioni. Tra l'altro scusatemi per il francese ma io non l'ho mai studiato e non mi piace neanche molto come lingua quindi credo che non lo studierò mai ma in ogni caso sono curiosa di sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate? Fatemi sapere perché a me queste ingiustizie fanno davvero tanto tanto arrabbiare e mi sembra assurdo che Omar sia finito in galera sulla base di quali prove? Quali? Non sono neanche riuscite ad andare nella panetteria giusta per verificare l'alibi ma ci rendiamo conto? Per me questa è follia. Follia allo stato puro. Ma chi le fa le indagini? Topolino? Perdonatemi però ci sono delle cose che per me sferano l'assurdo in questo caso. Davvero. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e fatemi sapere se siete arrabbiate quanto me oppure se non lo so sono io che mi infervoro facilmente. Come al solito quindi ci si becca qui sotto nei commenti e nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale mi raccomando. Ciao a tutti!